Questo video riguarda la tua vita, riguarda tutto ciò che non vorrai mai rimpiangere. È la tua sveglia personale, una sveglia per ricordare tutto quello che non vorrai mai dimenticare. La tua checklist della felicità e dell'abbondanza, come un post-it attaccato sul cuore. Energia pura per le tue cellule. Il tuo video del buongiorno, di ogni giorno in cui vuoi vivere la tua vita davvero. Segui i tuoi sogni, chiedi aiuto se hai bisogno, crea il tuo futuro. Diventa emozionalmente intelligente e fai anche il contrario quando serve. Trasforma il tuo lavoro in un gioco e non sarà più un lavoro. Fai amicizia con il tuo passato e prenditi una pausa quando serve. Riposati, diventa uno studente della vita. Ascolta la tua pancia perché lei sa le risposte. Sii gentile, lasciati andare a dire più sì e abbia anche il coraggio di dire no. Concentrati solo su ciò che puoi controllare. Vivi il mondo, resta concentrato quando lavori. Ti ama di più. E quando la vita si affiattisce, reinventati. Teniti in salute, sii fiducioso. E soprattutto riduci la tua possessività per creare rapporti veri e sani. Impara a conoscere te stesso in profondità. Sii estroverso ma anche introverso quando serve. Vivi con la mente aperta e sii il miglior parente che si possa avere. E no, non farti contaminare dai negativi. Modella migliori e allo stesso tempo accetta le tue debolezze. Gestisci i tuoi pensieri. Abbi il coraggio di fallire. E cerca di scoprire il prima possibile dove risiede la felicità dentro di te. E ridi di più! Sii unico. Dormi meglio e più ore. Cerca la semplicità. Non te la complicare troppo la vita. Trova la tua strada. Se devi proprio farlo, fallo oggi. Setta davanti a te obiettivi stimolanti. Non aver paura. Leggi libri come se tutto dipendesse da quello. Sii generoso con gli altri e crea anche armonia nella tua vita. E cerca di tornare a casa in tempo. Così potrai stare con le persone per te importanti. Perché le cose importanti nella vita, ricordatelo, non sono cose. Scegli i tuoi amici accuratamente. Coltiva sempre dentro di te questo senso profondo di curiosità. Ma soprattutto, fai ciò che dici. Le persone non ti giudicano per quello che dici, ma per quello che fai. E impara a dire la verità. Anche se la tua voce trema. Diventa un esperto in qualcosa. Quando a volte sbagli, ammettilo. Resta anche in contatto con i vecchi amici. Abbraccia la tecnologia e le innovazioni. Persisti. Non mollare mai. E cerca di non avere dipendenze. Soprattutto dipendenze distruttive. Passa più tempo nella natura perché è straordinaria. Usa la tua intelligenza saggiamente. E stai alla larga. Alla larga. Dalle persone negative. Impara dai tuoi nonni. Prima che sia troppo tardi. Sii grato alla vita. Nonostante tutto. Concentrati sulle novità. Invecchia con fierezza. Accettalo. E prendi sempre appunti. Scrivi. Scrivi. Coagula. Viaggia lontano. E perditi. Perditi per poi ritrovarti. Ma perditi. Perché ricercarsi è bellissimo. Pianifica il tuo futuro. Prenditi il tuo riscatto. Aiuta il pianeta a diventare un posto migliore. E ricordati che tu sei il prescelto. Quindi connettiti con qualcosa di più grande di te. E aiuta gli altri grazie alle tue esperienze. Non avere rimpianti. Mai. E respira. Ascolta il tuo cuore. E vivi con passione.